Grazie a tutti Grazie. Grazie. Chiudi, chiudi, metto dalla corda. Via Romano, via. Gira Andrea. Gira Andrea, gira, gira. Dai Simone. Dai Simone, dai. Gira Andrea. Daniele. 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 Adesso devi finire a recuperare. Dai, coraggio, su. Forza che è finita la gara ormai. Dai, Giovan. 124. 8... Altanda. 83. 12 97 76 75 31 92 34 54 40 7 13 68 32 47 36 42 56 24 bravo 128 30 86 1 93 49 3 98 50 37 25 quell'altro non l'ho visto 25 9 22 126 8 85 78 64 2 26 18 125 33 121 123 48 questo numero non si vede 19 21 10 4 77 33 11 14 94 20 94 69 non si vede 67 41 53 27 89 51 127 29 27 29 43 53 49 50 35 45 45 46 45 46 46 46 Grazie a tutti Alla quarto posto, con punti 111, la Virto Solucca. Alla quarto posto, con Pucchi 82, la Tredica Fondi. Alla seconda posto, con punti 65, l'Atletica Massimo Pellegrini. Ha vinto, con punti 50, questa fase interagionale, Giampa Gialle e Ostia. Grazie. 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 Grazie.